Ciao amici e bentornati nel canale, in questo video vi voglio parlare di cashback, che cos'è, come si fa, cosa serve, che vantaggi offre e vi discorrendo, soprattutto perché i tempi ormai sono maturi, è da molti mesi che se ne sente parlare, ma si comincia a dicembre e se ci si muove velocemente si potrebbero portare a casa 150 euro senza fare assolutamente granché nulla praticamente, che insomma buttarle via non lo sono neanche male, grazie al cashback del governo. Ma andiamo a vedere intanto che cos'è questo cashback, il cashback lo si sente nominare essendo più di più, non solo il governo ma anche altre carte di credito lo facevano, vuol dire riottenere indietro una parte della somma spesa. Perché lo Stato fa questo? Soprattutto per fare e per tirar fuori il nero, cioè l'evasione fiscale. In Italia è una delle nazioni dove c'è più nero, si stimano 200 miliardi di perdita all'anno, il doppio della Germania ad esempio, e il governo vuole recuperare questi soldini premiando gli utenti che pagheranno con i sistemi digitali, perché chiaramente un pagamento digitale è sicuramente tracciato e quindi non è possibile per un'azienda far nero se si paga con una carta di credito, mentre invece se si paga soldi, sì. E serve appunto anche per abituare le persone a usare questo tipo di pagamento, quindi anche le persone che normalmente lo usavano in ambienti dove non è possibile fare il nero, ad esempio in supermercati, comunque gli si porta a casa un bel soldino di premio. Dov'è che si può fare il nero? Sugli artigiani e sui piccoli negozi. Allora, il cashback non cambierà nulla per quanto riguarda gli artigiani, perché se facevano nero prima lo facevano anche adesso, però nei negozi, ad esempio nelle ferramenta, fiorerie, tutto questo tipo di negozi qua, è un po' più facile che la gente cominci a pagare con la carta di credito al bancomat se sa che porterà a casa dei soldini, soprattutto perché per portare a casa questi soldini, vedremo nelle aziende successive, bisognerà raggiungere un minimo di pagamenti. Partiamo subito con polemiche e complotti, che sono sempre la cosa più facile da snocciolare. Lo Stato ci controlla, il commerciante deve pagare, ci guadagnano le banche, allora, io vi spiego come funzionano le cose, per far polemica c'è Facebook, e l'unico punto da stare attenti è il secondo, che cosa cambia il commerciante, perché giustamente se il commerciante ci perde, a lui dà fastidio a pagare con la carta di credito e farvi pagare con la carta di credito, anche se quello che ci perde è veramente poco, però magari su, sì, ad esempio adesso mi sono un po' informato, ma se qualche commerciante mi sa dare informazioni più pratiche, siamo nell'ordine dell'1%, quindi se voi pagate 100 euro, loro ne bruciano uno. Questa cosa chiaramente non va tanto bene, perché così i commercianti non vogliono farvi pagare con la carta di credito. Se lo Stato avesse voluto incentivare questa cosa, io avrei addirittura messo un bonus, cioè tu Stato hai portato a casa 100 euro e io in fine anno in detrazione faccio conto che tu ne hai presi meno, così ti premio a far pagare con la carta di credito. Ma andiamo per ordine, intanto come si fa? Allora la cosa importante da capire è che questa cosa inizia già a dicembre, e dicembre è un ottimo periodo perché normalmente sarebbero previsti il 10% di quello che spendete ogni semestre per un massimo di 1500 euro spesi, quindi per un massimo di 150 euro portati a casa, 150 euro nel primo 6 mesi, 150 euro nei secondi 6 mesi, quindi per un totale di massimi 300 euro al mese, è 300 euro all'anno. Però per dicembre, per prova, si parte subito e fa conto solo dicembre. Quindi se fate almeno 10 transazioni di qualsiasi importo, voi vi portate a casa il 10% della somma delle transazioni che avete fatto. Le transazioni massimo però 150 euro. Cosa vuol dire? Che se io vado a fare la spesa, faccio benzina, vado in farmacia, faccio tutti e quindi scontrini sotto i 150 euro, porto a casa, ad esempio, spendo 1000 euro sul mese di dicembre, avendo fatto almeno 10 transazioni, mi ritrovo un bonifico di 100 euro, che buttali via davvero di non averli, sono 200 euro. E le transazioni, se voi spendete più di 150 euro, valgono 150 euro. Ad esempio, se prendete un computer da 500 euro, vi do l'indietro comunque il 10% di 150 euro, cioè 15 euro. Invece nell'anno successivo andranno fatte 50 transazioni al semestre per poter ottenere questo cashback. Una cosa da stare attenti è che questa cosa, essendo fatta appunto per far scoprire il nero, non funziona nei siti online, perché già lì si pagava già con la carta di credito. Quindi, ad esempio, se pagate su Amazon, non cambierà nulla. E come si fa a partire però? Si parte con l'app Io. L'app Io è diventata famosa nell'ultimo periodo perché è quella che ha permesso di ottenere il bonus vacanze. Quindi lo Stato sta cominciando ad agevolare la comunicazione tra privati e lo Stato tramite l'app Io. Ovviamente procuratevi lo speed, perché per entrare nell'app Io salve lo speed. Online trovate tanti sistemi per ottenere lo speed. Voi vi registrate, registrate gli identificativi delle carte, bancomat, eccetera, che avete e poi indicate l'Iban su quale ricevere tramite bonifico il cashback. Perché infatti una cosa veramente carina è che in questo caso i soldi non vengono detratti dalla... cioè non vengono rimborsati nella denuncia di redditi. Quindi anche le persone incapienti, cioè le persone che non stanno pagando tassi sui redditi perché hanno un reddito inferiore agli 8.000 euro l'ordi annui, quindi penso ad esempio a chi lavora part-time, tutto questo tipo di persone qua, siccome in questo caso i soldi vengono dati indietro subito, non ha alcuna importanza e chi della famiglia sta ricevendo indietro questo cashback. Riassumendo quindi i periodi, è importante capire che sono tre, non sono due, perché c'è dicembre 2020 che da solo fa un periodo. Se spendete quello che spendete, portate a casa fino al massimo di 150 euro, cioè il 10% di 1.500, facendo almeno 10 transazioni, massimo 150 euro a transazione. Poi c'è il periodo gennaio-giugno e il periodo giugno-dicembre dell'anno successivo, a meno che non cambino le carte in tavola. Perché potrebbero cambiare le carte in tavola? Perché ovviamente il governo deve anche andare a perdere tempo a stare dietro i cosiddetti furbetti che tenteranno di forzare il sistema in qualche maniera, ad esempio, con qualche amico facendosi 50 scontrini da un euro, per dopo prendersi la tv su un colpo solo e tutto il resto a fare in nero, cose del genere. Quindi, è meglio associare tutte le carte allo stesso utente così da alzare il numero di transazioni a livello familiare? Secondo me sì, perché chiaramente se è registrato un utente in famiglia e tutte le carte, magari c'è marito, moglie e figlio che hanno la carta di credito, associati tutte le carte allo stesso utente, dovreste arrivare prima alla soglia, perché la soglia, mi sembra, ma è da capire che sia legata all'utente e non legata alla singola carta di credito. Però arriveranno maggiori dettagli anche nei periodi successivi. Vengono associare all'utente che in famiglia il reddito è più alto e paga più tassi in modo da agire sulle denunce di redditi? No, in questo caso non serve, perché appunto, come vi spiegavo prima, non è che vi vengono detratti, vi viene fatto un bonifico diretto. Saranno tassati? Ecco, questa cosa sembra di sì, e tassati non ho capito in base a cosa, visto che non lavorando sulle denunce di redditi, non so, in base a cosa verranno tassati, però, vabbè, saranno tassati, ma comunque è meglio prenderli piuttosto che non prenderli. Cosa succede se parlo con smartphone, o smartband, o smartwatch, o qualsiasi cosa che è attaccata alle carte di credito? Niente, funziona perfettamente, perché loro in realtà usano la carta di credito, quindi si può fare benissimo. E cosa succede per i commercianti? Allora, come vi dicevo prima, perché questa cosa funziona e non trovi resistenza, bisogna che il commerciante non abbia troppi oneri nel gestire questa cosa. Quindi si pensa attualmente di azzerare le commissioni sotto i 5 euro, quindi questa cosa viene molto comoda nei bar, ma ad esempio a Londra potete aprire anche il gabinetto con una carta di credito, anzi, cioè i soldi a Londra praticamente non esistono, anche i 10 centesimi si parla tutto con la carta di credito, quindi si vuole agevolare le mini transazioni, e ridurrele di molto sotto i 25 euro. Attualmente risulta la descrizione di chi gestisce le carte. Quindi da capire. Però secondo me è cruciale. Considerate però che quando il commerciante vi dice di pagare in nero e vi fa, magari vi toglie l'IVA, in realtà lì lui sta creando uno squilibrio, non voglio creare polemica, voglio solo spiegare come funziona. Allora, se loro gli dicono ti togli i capelli con 20 euro, ma se mi... costerebbe 21, ma ti faccio 20 se tu non mi fai lo scontrino, in realtà lì lui li sta prendendo tutti, non pagherà tasse, perché non dichiarerà quel reddito. Quindi gli state comprando la porsa praticamente. Ok? Le state facendo fallire, invece chi lo scontrino lo fa? Purtroppo viviamo in uno stato in cui le cicale vengono aiutate e le formiche vengono spremute. La legalità non è incentivata, perché è meglio sempre fare i furbetti e quindi per questo ci sono questi problemi. Ognuno faccia come vuole, volevo solo spiegarvi come funziona. Quindi, secondo me, avanti tutta perché con questo tipo di attività non solo portiamo a casa un po' di soldini, ma intanto c'è meno rischio anche di venire dirubati. C'è la mania di pensare che i conti vengano clonati, vi discorrendo. Basta farsi una carta preparata. È molto più difficile che ti clonino la carta di chiedito che oltretutto se è preparata non cambia niente, rispetto a perdere portafogli e farselo dirubare. Oltretutto meno soldi abbiamo in casa, meno incentiviamo i ladri a venirvi in casa. Perché se non avessimo mai soldi in casa, sì, vabbè, vi rubano la tv o altre cose, però è sempre meno valore che abbiamo fisicamente in casa. Andremo molto più velocemente nei negozi, supermercati, meno colonne, meno resti, meno soldi da far girare e via discorrendo. Considerate che creare soldi costa. Cioè, quando si dice online che avete 100 euro e ogni volta che le girate alla banca ci prende un euro e quindi dopo 100 transazioni quei 100 euro sono spariti, non è proprio così. Perché comunque per creare quei 100 euro la banconota costa. Sono complicate, c'è la zecca. Infatti molte nazioni stanno lavorando sulla moneta digitale tipo bitcoin, per dirci. Proprio anche per questo motivo qua. Quindi si abbassa il costo di creazione del denaro. C'è una cosa che potrebbe rovinare tutto questo. La necessità di mostrare un QR code al negoziante. Se introducono queste rotture di scatole diventa una cosa noiosissima perché il negoziante non ha tempo da perdere, sta dietro alla burocrazia. Le cose perché funzionino devono essere veloci e comode per entrambi le parti. Quindi se io devo stare lì a mostrare il mio codice al negoziante e mostrare l'app verrà fuori al 100% che il negoziante ti dirà non ho l'app, non so come fare, non sono abilitato, non funziona, ma è tutta una serie di cose. Per conto mio, perché funzioni, bisogna che l'utente mette la carta di credito sull'app e poi sono le banche che diranno i dati allo Stato, non che bisogna andare a generare un QR code per farsi identificare. Cosa che sembra che sia così nella lottria degli scontrini, ma attualmente non so a che punto sono. E poi ci sono delle chicche interessanti. Sì, innanzitutto non è solo il governo a fare cashback. Ad esempio, se guardate uno dei miei video qua del canale, c'è cripto, le criptovalute, che vi danno una carta cripto che ogni volta che voi pagate vi portate a casa il 2% della somma in criptovalute. Quindi, se voi lo associate a questo sistema di cashback, è potenzialmente possibile che voi vi prendiate il 10% dallo Stato e il 2% di cripto. non mi sembra neanche una furbata all'italiana perché in realtà cripto lo fa come anche Hype. C'è un altro video nel canale pieno di no, però su Hype invece funziona però si è comprato online quindi non c'entra più con questa cosa ma comunque non è l'unica banca che vi offre cashback proprio perché voi andate a utilizzare la sua carta di credito. La cosa molto carina invece è che è previsto anche un super cashback da 1500 euro per i primi 100.000 utenti che si registreranno per primi a io e effettueranno un maggior numero di transazioni. Anche questa cosa qua va capita perché potenzialmente allora se io ho un amico che ha un negozio posso comprarmi un milione di caramelle alle 10 centesimi e per buttarmi su all'infinito il numero di scontrini e dopo dividermi il super cashback. Comunque vabbè a parte il sistema necessario per evitare gli sfruttamenti di questo sistema è bene partire presto e usarlo il prima possibile. Grazie per l'attenzione e fatemi sapere come procederà iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto lasciatemi i commenti un mi piace e ci sentiamo alla prossima. grazie a tutti i nostri spettatori